Benvenuti! Ormai la prima parte di stagione è quasi conclusa per Samuel e l'MSP, che con la vittoria della partita scorsa è riuscito ad arrivare al tetto dei 20 punti in campionato. Tuttavia un'altra partita li attende prima della sosta. Un impegno importante per chiudere il meglio possibile questa prima parte di stagione. Riuscirà Samuel a recuperare dal brutto infortunio e a giocare l'ultima gara dell'anno? Stiamo a vedere! Grazie a tutti! 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 ragazzi oggi è domenica domenica mattina sto andando dal mio fisico a fare il tepping alla caviglia per vedere se riuscirò a giocare sto meglio molto molto meglio rispetto a due settimane fa che non camminavo quasi proprio e vediamo signori magari potrò non partire titolare però potrei giocare almeno 20 minuti buoni o vedere un attimino come sto nel riscaldamento perché sicuramente entrerò in campo toccherò il pallone e vedrò come mi sento con la caviglia a toccare il pallone e provare di calciare non è detto potrebbe essere la mia ultima partita come potrei non giocare questa partita scopriamolo ma prima andiamo a fare il tepping dal maestro fisioterapista let's go vedi così? ragazzi sono uscito dal fisioterapista adesso direzione campo oggi giochiamo contro il treppo una buonissima squadra che ha fatto bene fino a qui però è caduta nella scorsa partita per un risultato abbastanza incredibile hanno perso veramente di tanto in questa prima parte di stagione abbiamo potuto capire che veramente tutti se la possono giocare contro tutti e tutti possono vincere come tutti possono perdere primo obiettivo diciamo quasi raggiunto perché alla fine siamo riusciti ad arrivare a 20 punti in questa prima parte di stagione che è veramente molto molto buono speriamo di farne altrettanti 20 nella seconda parte di stagione per arrivare appunto al nostro obiettivo e fare veramente bene abbiamo le potenzialità per fare un campionato di classifica alta, medio alta ma questo non ci deve comunque sia dissuadere dal nostro obiettivo perché è un attimo entrare in un trend negativo e subire e non riuscire più ad uscirne fuori detto questo siamo quasi arrivati al campo oggi come vi ho già detto vedremo le mie condizioni come saranno in campo se riuscirò a giocare non so se partirò titolare però magari se sto bene e bene potrei giocare almeno una ventina di minuti lo scopriremo tra poco detto questo ci vediamo direttamente in campo e godiamoci il discorso del mister oh ragazzi è l'ultima di andata è una partita contro una squadra che ha fatto un'ottima partenza e un buonissimo giro nell'andata come anche noi vengono da un momento difficile e quando si gioca contro squadre così che hanno questo problema di continuità e vengono da una debacle importante perché perdere 7 a 2 non è una sconfitta 1 a 0 bisogna stare molto attenti perché la sconfitta 7 a 2 può avere due risvolti o sono giù a pezzi o invece è una molla per reagire loro sono una squadra che il campo pesante lo soffrono mentre il campo come oggi li agevola perché sono una squadra abbastanza tecnica abbastanza rapida e bisogna stare molto attenti molto concentrati se giochiamo come sappiamo li mettiamo in grossa difficoltà però bisogna stare molto attenti e limitare i loro punti forti il centro avanti che è in stato di grazia quest'anno e i loro due esterni io credo in voi molto credo benvenuti a tutti cari amici come potete vedere siamo alla quindicesima giornata del campionato di promozione Samuel partirà dalla panchina dato che non è ancora in condizione e quest'oggi si affronteranno per questa ultima partita del girone d'andata MSP Calcio contro Trebo è tutto pronto si può iniziare tischietto in bocca e let's go parte subito l'MSP con rota un lancio in avanti un po' lungo ed esce il portiere avversario palla dalla difesa del Trebo provano a giocare lì c'è il pressing dell'MSP il difensore scivola ma riesce a risolvere tutto poi la perde ancora palla che carambola per Bartolini che la lancia per Colace prova il tiro parata del portiere subito pericoloso l'MSP ma che errore del Trebo ancora avanti sbaglia qui il Trebo ancora palla per Luccarini rimbalza prova a prenderla ancora l'MSP che riesce a gestire il pallone fascia destra bravo Feraco a inserire Traina il passaggio in mezzo palla per Colace prova il tiro poi c'è Luccarini non può sbagliare e il difensore salva ancora vicino al vantaggio l'MSP calcio adesso però è il Trebo che si fa a vedere avanti riesce a passare a due persone bellissimo l'assist in mezzo c'è un colpo di testa miracolo di Comastri una sicurezza per questa squadra e allora il Trebo ha preso la carica continua ad avanzare sulla fascia destra prova il doppio passo il tiro da fuori niente di pericoloso calcio di punizione da più o meno 24 metri carica al destro palo che poi sorvola la linea della porta dell'MSP che si salva lavorosamente Traina prova il filtrante la palla carambola in avanti per Bartolini ne dribbla due Bartolini prova a andare sulla sinistra prova il tiro ma niente palla centrocampo gestita male al centrocampista il Trebo che perde il pallone perché c'è un mitico Bertan che la passa per Colace dal limite anticipato all'ultimo ancora Colace a fascia sinistra può centrarsi invece no prova i cross in mezzo non c'era nessuno altra occasione ghiotta non sfruttata da parte dell'MSP palla dalla difesa e l'arbitro fischia due volte finisce il primo tempo Trebo 0 MSP 0 fine primo tempo ragazzi direttamente dal campo partita molto molto bloccato fino a qui come vi avevo già detto purtroppo non sono riuscito a partire titolare non so se riuscirò ad entrare perché la caviglia a correre un po' mi fa male mi dà fastidio forse meglio non rischiare siccome abbiamo tante altre partite più la sosta che mi aspetta quindi sarebbe meglio recuperare per la seconda parte di stagione che dire tante occasioni per noi anche loro hanno preso un bellissimo palo su punizione però i nostri attaccanti devono nel secondo tempo entrare con una mentalità superiore e riuscire a bucare il portiere fatto delle bellissime parate il loro portiere partita molto importante questa molto decisiva perché ci proietterebbe a 23 punti e sarebbe veramente tanta tanta roba per noi e speriamo di portarlo in casa questa partita Gabri adesso vuole andare via ragazzi Gabri Gabri vuole andare via scusateci se nel secondo tempo non ci sarà il drone ma devo andare a vedere la finale mondiale fatemi sapere nei commenti quanti soldi di multa sono voglio vederti te stai in panchina col telefono così come l'altra volta 20 euro 20 euro di multa ci sta una pizza offerta bravo una pizza offerta se voglio a vedere la finale scusate ragazzi il mondo va avanti non è che si ferma per i mondiali cioè che cosa vuol dire forza msp già lo sai già lo sai la collab direttamente da lavoro per seguire mio fratello samuel mi aveva promesso che giocava però purtroppo non sta bene mi auguro che guarisce presto che torna a farci sognare perché a centrocampo fa la differenza grande Sam rispetto bro rispetto grande Sam allora ragazzi il mister era molto agitato alla panchina abbiamo sprecato tante occasioni e mi sa che nello spoglatoio gli starà mangiando la faccia perché era veramente veramente tanto arrabbiato in panchina e quindi ci ridiamo in partita ragazzi siamo tornati qui con il secondo tempo l'albitro fischia buono spettacolo a tutti palla in avanti niente palo troppo alta bene 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 così ancora un assedio del trebbo che ha capito come segnare ma c'è il fuorigioco bandierina alzata questa volta l'MSP con Traina ancora Traina si avvicina alla bandierina poi ne dribbla uno ne dribbla anche un alto camoroso Traina va avanti e si guadagna un calcio d'angolo ma che giocata che giocatore questa volta va dal monte prova a lanciarla in mezzo spazzata via poi c'è Rota che può provare il tiro da lì no la passa Ricciardo ma Ricciardo con il mancino murato poteva essere un'occasione interessante per l'MSP palla ancora persa ma c'è fallo e invece no per l'arbitro non c'è niente può andare avanti il trebbo intanto qua Michael in cameraman che è concentrato sul fallo poi sulla fascia sinistra balla in mezzo e il trebbo si mangia il terzo gol in questo secondo tempo e qui l'arbitro va ad accertarsi delle condizioni il numero 19 dell'MSP e qua Fanti attenzione ha protestato un po' troppo e l'arbitro si avvicina a lui vediamo cosa farà lo richiama verbalmente no cartellino giallo per Fanti perché sta protestando da molto tempo ecco qui sta uscendo il giocatore dell'MSP ma attenzione Fanti ancora richiamato dall'arbitro doppio giallo per lui ed espulsione la prima espulsione per lui in promozione clamoroso mister Fanti deve uscire dal campo e qui l'MSP si trova in evidente difficoltà ma per fortuna può dirigere anche da lì e allora ci stiamo addentrando proprio adesso al novantesimo palla indietro ma va il retropassaggio però c'è Luccarini che non ci arriva di un soffio che rischio va avanti l'MSP riesce a recuperare il pallone subisce un pestone il centrocampista Spinella che però l'arbitro non vede e la palla va avanti può passarla e in mezzo si infiltra attaccante e c'è il gol dell'1-0 da parte di Scanabissi che porta in vantaggio il trebo ma tutto l'MSP sta protestando per questo pestone clamoroso non visto dall'arbitro fatto sta che nel recupero passa in vantaggio e ora si fa molto dura l'arbitro non dice niente non ha visto niente quindi gol regolare all'ancora in avanti il trebo cerca il raddoppio c'è il cross alla Modric e c'è il 2-0 di Ciri in 2 minuti fa 2 gol il trebo l'MSP si è spento dopo il gol dell'1-0 e qua la partita ormai si può dire chiusa calcio d'angolo l'ultimo per l'MSP tra una batte in mezzo per Dalmonte e la riafre manca un minuto segna proprio lui Riccardo Dalmonte un giocatore sontuoso di questa squadra con un mancino magico ma questa volta ha segnato di testa anche se ormai il tempo sta per scadere e infatti l'MSP ormai non ha più tempo perché l'arbitro fischia la fine di questa partita il trebo vince in casa 2-1 contro l'MSP calcio partita molto equilibrata l'MSP nel primo tempo ha sbagliato molte occasioni il trebano sbagliate altrettante nel secondo tempo però ha riuscito ad essere più cinico e qui escono tutti dal campo e ora andiamo da Samuel ragazzi si conclude qua nel peggior dei modi per così dire per come è andata la partita questa prima parte di stagione spiace molto per il risultato perché è una partita molto molto bloccata fino ad arrivare quasi all'ottantesimo e poi disequilibrio da parte nostra che ci sono costato i due gol la promozione funziona così bisogna sempre stare attenti e non è mai detto come vada a finire la partita tutto può succedere noi siamo stati bravi e brillanti soprattutto davanti alla porta abbiamo avuto qualche occasione per noi importante che non siamo usciti mai a concretizzare loro hanno giocato secondo me sul nostro stesso piano non hanno eccelso a parte i 10 minuti finali che a parer mio Sam alla fine lo sappiamo in queste categorie qua la partita se mogli quei 5 minuti purtroppo succedono queste cose qui poi purtroppo la squadra dopo che ha preso il primo gol si è un attimo disunita è andata diciamo alla ricerca del pareggio ed è arrivata col secondo gol che purtroppo ha tagliato un po' le gambe però ragazzi c'è da dire che arbitraggio arbitraggio imbarassante scandaloso scandaloso imbarassante io spero che qualcuno guardi queste partite perché dai non si può non si può arbitrare in questo modo ci sono stati dei falli nettissimi che si fischiano sempre che non sono stati fischiati cioè delle robe assurde ragazzi non si può non sono lì non sono lì capito è vero non sono attenti e questo costa caro perché perdi delle partite oggi per merito non tuo però noi ci abbiamo messo anche del nostro a parte l'arbitraggio un po' così ti ringrazio mi spiace che sei venuto a vedermi in questa partita dove purtroppo abbiamo perso però ragazzi anche lui gioca calcio non come me fa la serie però comunque sia interessante perché nelle tue storie su instagram ti seguo sempre grandissimo io gioco in terza ragazzi stiamo giocando al campionato anche noi speriamo di salire perché non succede ma se giochiamo io contro Sam lo sapete ok Ghana e Marocco bravissimo detto questo ragazzi noi ci vediamo tra un po' ci saranno queste pause invernali state connessi perché sul canale usciranno sempre dei nuovi video freschi anche a tema MSP vi racconterò un po' quello che farò nel mentre c'è la pausa ci saranno gli allenamenti ci sarà la preproparazione alla seconda parte di stagione quindi mi raccomando state connessi non sono finite qui le sorprese e non sono finiti qui i video della serie dell'MSP ti ringrazio e forza MSP forza MSP ragazzi è andata purtroppo così questa ultima partita rimaniamo 20 punti speriamo di farne altri 20 del girone di ritorno comunque ragazzi io vi auguro un grandissimo felice natale mi raccomando festeggiate anche capodanno io spero di riprendermi nel 2023 spero che possa essere un altro anno come il 2022 perché mi ha dato veramente tanto quest'anno e vi ringrazio anche e soprattutto a voi quindi mi raccomando passate un buon natale fatevi tantissimi regali e noi ci vediamo direttamente al prossimo anno ciao ragazzi ciao 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 Grazie per la visione!